Sorpreso dai carabinieri di pattuglia davanti al CERTI in via dei Colli a Padova a spacciare Metadone, arrestato un 49enne padovano che aveva appena venduto tre boccette di droga. I militari hanno infatti notato una Fiat Punto parcheggiata con un uomo appoggiato al lato del finestrino intento a chiacchierare con il conducente. I due, vedendo i carabinieri, si sono salutati velocemente. Gli uomini dell'arma hanno notato però uno scambio di denaro. È stata quindi perquisita l'auto trovando le tre boccette di Metadone nel cruscotto. Addosso allo spacciatore è stata rinvenuta la somma di 30 euro. L'uomo è stato quindi arrestato e messo agli arresti domiciliari in attesa del processo. Il 49enne era in cura al CERT ed era già noto alle forze dell'ordine, sempre per reati legati allo spaccio di droga.